stasera ore ventuno e trenta vi consiglio di venire in live sul canale di il Romagnolo Nero Azzurro che conoscete bene è uno dei miei canali preferiti e c'è anche il grande Joe, Joe Benzinero, uno dei pochi milanisti che stimo perché insieme a calcio ci uniamo quattro risate perché il calcio indipendentemente dalla fede dovrebbe unire non dovrebbe dividere un po' come lo scopo e il fine di tutti gli sport oggi fatemi parlare per favore oggi ho bisogno di essere ascoltato lasciatemi parlare a ruota libera posso dire qualche cazzata fatemelo presente se l'addio alle ventuno e trenta venite in live sul canale del Romagnolo Nero Azzurro ci sarà Joe Benzinero e forse anche qualche donato Giuseppe si è pareggiato con Mangula Savona, Fagioli, Broccoli e sono giovani corrono ci hanno creduto come si fa a giocare inudizionati dal fallo della munizione se ci fai caso noi siamo quelli meno fallosi di tutti ma bisogna dire alcuna cosa bisogna dire che appena facciamo un fallo noi spesso veniamo muniti e questo è grazie alla Marotta League come dice qualcuno bisogna analizzare bene la cosa bisogna innanzitutto evitare la stampa di regime che ancora ad oggi c'è e la stampa di regime di Zhang sono gli stessi anche su YouTube che poi stanno continuando a fare stampa di regime a far finta di nulla mercati da 40 da 50 cioè te hai un difensore da 37 anni l'unico bravo a marcare l'uomo loro hanno avuto il coraggio di dire mercato da 10 con un ragazzo di 37 anni operato di pubalgia se non compi un centrale questa gente ha avuto il coraggio di dire mercato da 10 non ti dico non prendi un cotitolare di ci sto dicendo un centrale difensivo la verità è che c'è una rosa corta giusto ci sono due squadre sì una di golf e una di calcio la panchina non è assolutissimamente all'altezza non abbiamo nessun sostituto in attacco e la squadra è vecchia e logora anche mentalmente poi sicuramente cosa succederà ora che questa stampaglia di regime che tra l'altro attenzione io parlo a quelli su YouTube stanno criticando anche loro ma saranno i primi in caso di vittoria contro l'Empoli a dire dove sono gli intertristi ma ad oggi quindi siete intertristi anche voi che state dedicando in zaghi le scelte e i giocatori anche voi stampaglia di regime su YouTube siete degli intertristi allora quello che a me non piace quello che c'avevo qui guarda ce l'avevo mi e di cui mi devo liberare è che sempre questa stampaglia di regime di parte ci volevano spacciare per grandi acquisti Taremi e Zelischi ma non solo ce li volevano spacciare per grandi acquisti ma ce le volevano spacciare anche come dei super affari il signor Zelischi che ripeto ieri è stato uno dei meno peggio in campo ma linee di passaggio non le legge una linee di interdizione non ci va nemmeno abbassarsi per prendere la palla non esiste non ce la fa è un giocatore che ormai da due anni ha dei gravi problemi fisici tra l'altro spero di no ma sembra abbia avuto il quinto infortunio stagionale quinto infortunio stagionale sono lievi ma sono sempre infortuni sono dei grandi campanelli d'allarme il signor Zelischi con otto e milioni e tre lordi ascolta bene il signor Zelischi loro ce lo volevano eh far passare per grande affare otto milioni e tre lordi per tre anni a casa mia sono circa venticinque milioni il signor Zelischi arriverà ad avere trentatré anni quando gli scadrà il contratto il signor Taremi guadagna sei milioni lordi per tre anni a casa mia sono diciotto milioni d'operazione più la parcella Pastorello e ha pinto il procuratore portoghese quindi anche il signor Taremi questo zero che non esiste più l'acquisto a zero è un'operazione da venticinque milioni la narrazione che fanno loro sul mercato è è paritetica alle narrazioni che fanno il Corea del Nord uguale spiccicato fino a quando poi dopo non vengono smentiti dal campo perché questi signori sistematicamente poi eh vengono smentiti dal giudice supremo che lei è il campo no anche perché non esistono più i parametri zero che abbiano trenta trentuno trentadue trentatré ci sono fior fior di commissioni se quando prendi Ericsson a gennaio venticinque milioni in scadenza di contratto hai dato dodici tredici milioni al procuratore di cosa stai ragionando quindi giusto è tutto da buttare assolutissimamente no questa è una squadra che ormai ha dato tutto è una squadra che mentalmente scarica c'è un allenatore che spesso e volentieri fa degli errori come a volte non li fa ma io ripeto non mi capacito ancora di come abbia fatto a mettere scupidù per pavarti come lo chiama qualcuno perché l'anno stavamo soffrendo e non mi capacito cosa potesse fare daremi dieci minuti al posto di turam che era più pericoloso sono quelle le cose non capisco come non capisco perché ti fai massacrare un'ora dalle mezzali senza porre un rimedio tattico queste cose mi dispiace ragazzi ma io non riesco a capirle su danfis ma avete rotto i ognoni ora è giusto ma te hai sempre un occhio di riguardo per danfis non è vero non è vero non ho un occhio di riguardo per danfis l'esterno l'esterno come giocava ieri lui deve dare una mano in fase difensiva l'esterno deve aiutare in fase difensiva non deve difendere al posto del braccetto è diverso i gol non li prendi per colpa di danfis non doveva difendere danfis lì era qualche di un altro doveva difendere il secondo gol lo prendi perché zerischi non rincorre l'avversario zerischi ripeto ha dei piedi d'oro purtroppo a livello fisico non c'è più ma non c'è più da due anni perché lo stesso spalletti nell'anno dello scudetto spesso lo metteva a sedere quindi di cosa ragioni se non spendi non appendi ragazzi siamo sempre lì per quello io mi sono incazzato con la iena perché c'era la juve vinci 4 a 2 4 a 4 non lo puoi digerire in 24 ore abbiate pazienza ragazzi ma quest'anno continuo a dirti che io prenderò quello che viene perché non hai speso un euro a chi portiere a molti di voi joseph martinez non piace a me piace buttalo dentro il ragazzo perché anche ieri summer insomma vogliamo parlare anche di summer buttalo dentro il ragazzo questo palacios può fare peggio di devrai buttalo dentro facci vedere qualche giovane perché anche lì eh ma i soldi sono stati spesi male no i soldi non sono stati spesi male i soldi li hanno spesi come li hanno voluti spendere loro perché gli acquisti che sono stati fatti all'inter non sono stati fatti per far per formare la squadra sono stati fatti degli acquisti in prospettiva futura di vendita per accrescere il valore della squadra l'è diverso becchiamoci stasera alle 21 e 30 dal romagnolo nell'azzurro e per chi volesse sostenere questo canale c'è un clic gratis e iscriviti ciao e iscriviti grazie a tutti grazie a tutti